Venerdì 13 settembre in 100 secondi le break news di Alice Channel, Italia e Turchia più vicine grazie alle autostrade del mare del gruppo Grimaldi. Al via domani il nuovo servizio RORO diretto tra Trieste e Ambarli a pochi chilometri da Istanbul con due partenze settimanali da ciascun porto. Sulla nuova linea saranno impiegate la Eco Mediterranea e l'Eco Malta, unità navali ibride in grado di dimezzare le emissioni di CO2. E si è appena concluso all'Idrogen Expo 2024 di Piacenza l'intervento del vicepresidente di Alice Marcello Di Caterina che ha evidenziato la necessità che vengono adottate dall'UE misure meno rigide nel processo di transizione. Non è pensabile, ha affermato Di Caterina, procedere senza prendere in considerazione l'impatto che la normativa avrà sugli operatori e sui mercati. Il protezionismo è il nuovo rischio emergente per il trasporto marittimo globale, secondo l'ICS Barometer Report pubblicato dall'International Chamber of Shipping. Il presidente Emanuele Grimaldi avvisa, in questa delicata fase di transizione, politiche e chiarezza prerogative fondamentali. E adesso la cronaca. Stamani, rallentamenti sulla circolazione ferroviaria all'altezza del nodo di Milano a causa del deraiamento di un treno merci per un improvviso sgancio di un container. Sei le persone rimaste ferite, la dinamica è in corso di accertamento. E sempre a Milano è di tre morti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un emporio di articoli cinesi alla periferia nord della città. Le vittime sono tutte giovani di nazionalità cinese, non è stata esclusa la matrice dolosa. Chiudiamo con i mercati finanziari, Borsi Europei in territorio positivo all'indomani della decisione della BCE di tagliare i tassi di 25 punti base. Piazza Fari poco sopra la parità, Limato, lo spread a 138 punti. L'attenzione degli investitori è anche sul meeting Fed della prossima settimana, dove si attende un altro taglio dei tassi USA. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata!